E' andato a sentire per noi alcuni tifosi, quindi sentiamo quello che ne pensano loro sul futuro di Ventura. Prego, grazie a D'Alessio. Saltorino è la terza migliore squadra di questo anno solare. Se l'aspettava una squadra così che gioca bene oltre che... Certamente no, perché era anche partita maluccio. Però oggi come oggi bisogna dire che è tanto di cappello allenatore, perché è un grande allenatore. Secondo lei farebbe bene a rimanere, perché adesso le ultime dichiarazioni parlano di un Ventura che propone un altro quadriennio addirittura a Cairo. Addirittura? Eh beh, quindi io lo auguro che rimanga. Fosse nei panni di Ventura, lei rimarrebbe alla guida del Torino per altri quattro anni, come sembra si voglia proporre all'allenatore? Con un programma a lunga gittata, diciamo. Ah, se fa dei buoni acquisti sì, ma se continua su questa politica no. Ecco, un po', qua si apre il discorso, lei ha toccato il cuore del discorso, nel senso che un allenatore come Ventura, che ha fatto bene, lasciasse adesso, lascerebbe un ricordo eccezionale. Non rischia poi un addio un pochettino più mesto nelle prossime stagioni, visto che al Torino ogni anno si disinnesca una pedina o due o tre, adesso si parla di darmi. Ventura già due anni fa aveva fatto un discorso con Cairo, che voleva una squadra competitiva. Gliela ha promessa e non gliela ha fatta? La prestazione del Torino ancora una volta è stata... Molto mediocre, non abbiamo fatto un tiro in porta, tutto ha detto, tutto lì. Di fronte c'era la Roma però. Sì, non la Roma dei bei tempi, una Rometta che così se la giochicchiava, di fatti anche loro, tolto un tiro dove Padelli l'ha respinta di pugno, non hanno fatto altro. Pericolosità non ce n'è stata, però comunque una squadra che tenta di andare in Europa deve fare qualcosa, sicuramente qualcosa in più ci manca. Forse a livello societario deve fare qualcosa in più. A livello societario direi che... Beh, Cairo, io non sono contro Cairo perché lui ci ha salvato da un fallimento ed è forse l'unica squadra che ha i conti a posto in tutto il campionato. Sì, potrebbe fare qualcosa in più, potrebbe tenersi quelle pedine che quei giocatori che invece di darle subito un prezzo e rivenderli potrebbe tenerli per fare una grande squadra. Però purtroppo non sono, alle volte non sono i giocatori stessi che vogliono andare via a cercare fortuna, a cercare soldi, naturalmente. Un pochino di pessimismo la differenza nostra, ma noi ci crediamo di più. Messaggi? Ecco, invece i tifosi sono molto positivi anche in vista del derby. Tra cui Enzo che dice complimenti per il programma, vinceremo 2 a 1 con la Juventus. Un saluto a Liboni. E poi abbiamo Mauro che dice buonasera a tutti, con questa formazione arriveremo di nuovo in Europa e magari vinceremo anche il derby. Forza Toro, unica fede. Speriamo davvero, parleremo anche di derby tra pochissimo, di questa febbre che sale, i biglietti che stanno andando molto molto bene. Credo ci sarà uno stadio di nuovo tutto esaurito, come è giusto che sia per partite così.